Maxi posto di blocco della polizia stradale a retina questa mattina in zona carbonai alle porte di Arezzo sulla strada che costegge il raccordo autostradale. Sono controlli che vengono fatti ordinariamente nelle strade della regione toscana, più o meno una volta al mese per ogni provincia toscana. Andiamo a ricercare a 360 gradi, quindi infrazione al codice della strada, vediamo la regolarità dei documenti, abbiamo anche la possibilità di utilizzare il cane per la ricerca di sostanze stupefacenti e quindi a seconda delle macchine, dei veicoli che fermiamo, se adesso non sospetto procediamo a fare anche dei controlli maggiormente approfonditi. Sono stati fermati in tutto 73 veicoli, di cui 12 mezzi pesanti e 61 automobili, controllati invece i documenti di 81 persone. In tutto 22 le multe fatte, di cui 6 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini. Gli agenti hanno anche ritirato una patente e due carte di circolazione, nonché sequestrato due auto, una priva di assicurazione e l'altra introdotta in Italia di contrabbando. I punti sottratti dalle patenti in tutto sono stati 50, nessuno invece è risultato positivo a droga o alcol. Questo reticolo quindi di pattuglia della polizia stradale sicuramente contribuisce ad aumentare una percezione di sicurezza per la cittadinanza e crea dei disagi che sicuramente sono ridotti al minimo.